21.15, tabella di marcia consegnata, inizia la prima edizione del rap storico quarantennale della prima edizione del 1976, si lascia andare Marco Bianchini, Deiana Dardelli, equipaggio della Repubblica di San Marino, lascia la pedana in questo momento, ci dimenticheremo tutto quello che c'è dietro e penseremo solo ad andare più forte possibile, altra Porsche 911 La Repubblica 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 La Repubblica